Buongiorno. Oggi affronteremo un tema di scottante attualità che riguarda tutti da vicino. La propaganda politica è bellica. Ne siamo letteralmente inondati, sommersi. Utilizzando il gioco letterario della intervista impossibile, proveremo a dare voce a Edward Bernays, 1891-1995, considerato unanimamente il padre delle pubbliche relazioni, ovvero l'inventore delle tecniche di marketing e pubblicità utilizzate nella società contemporanea. Con il suo aiuto immaginario, cercheremo di capire, con un linguaggio semplice e piano, le principali regole che stanno alla base del funzionamento dei dispositivi di manipolazione dell'opinione pubblica, soprattutto in relazione al marketing politico e di guerra, ricorrendo ad esempio i tratti dalla storia contemporanea. Fare chiarezza, comprendere per potersi difendere. È una battaglia di civiltà, urgente, indispensabile per il futuro dei nostri figli. Condividete con amici e conoscenti se è di vostro interesse. L'essenza della propaganda. Intervista impossibile a Edward Bernays. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Edward Bernays, considerato il padre delle pubbliche relazioni. In questa trasmissione discuteremo con lui di un tema molto rilevante. La propaganda, in particolare quella in tempo di guerra, dati i tempi che corrono. Benvenuto, signor Bernays. Buonasera e grazie per l'invito. Signor Bernays, cominciamo con una domanda semplice semplice. Cos'è la propaganda? La propaganda è uno strumento di comunicazione che mira a influenzare le opinioni e i comportamenti delle persone. Viene utilizzata per promuovere un'idea, un prodotto o una causa. In tempo di guerra diventa uno strumento fondamentale per mobilitare il sostegno del pubblico e per demonizzare il nemico. Una definizione da manuale, direi signor Bernays. Tutti quanti, forse, abbiamo maggiore familiarità con la propaganda in senso commerciale, quella che chiamiamo pubblicità. Sarebbe così gentile da spiegare al nostro pubblico le regole fondamentali della propaganda applicata alla politica? Certamente. La propaganda politica si basa su alcune regole fondamentali che ne determinano l'efficacia. Queste regole sono state applicate in vari contesti storici, inclusi numerosi conflitti. Vediamo insieme queste regole e facciamo alcuni esempi. La prima regola è la semplificazione. I messaggi propagandistici devono essere semplici e facili da comprendere. Devono ridurre questioni complesse a slogan e immagini facilmente assimilabili dal vasto pubblico. Un esempio storico è la propaganda utilizzata dagli Stati Uniti durante la prima guerra mondiale. Lo slogan «Make the world safe for democracy» ha semplificato il motivo dell'entrata in guerra, rendendo facile per il pubblico americano comprendere e sostenere l'intervento. La seconda regola è la ripetizione. I messaggi devono essere ripetuti costantemente, attraverso vari canali, per rinforzare il messaggio e renderlo parte del pensiero comune. Durante la seconda guerra mondiale, per esempio, i manifesti e i discorsi di Winston Churchill ripetevano continuamente l'importanza della resistenza e della vittoria contro il nazismo, cementando il morale del pubblico britannico. La terza regola è l'uso di simboli e immagini potenti. Questi evocano emozioni forti e rendono il messaggio memorabile. Ad esempio, l'immagine dello zio Sam, che punta il dito e dice «I want you for US Army», voglio te per l'esercito degli Stati Uniti, è un simbolo potente che ha motivato molti giovani americani ad arruolarsi durante la prima e poi durante la seconda guerra mondiale. La quarta regola è la selezione delle informazioni. La propaganda sceglie e presenta solo quelle informazioni che supportano il suo messaggio, spesso omettendo o distorcendo i fatti contrari. Durante la guerra in Vietnam, per esempio, il governo degli Stati Uniti spesso presentava le vittorie e minimizzava le sconfitte per mantenere il sostegno pubblico all'intervento. La quinta regola, infine, è l'appello all'autorità. Utilizzare figure autorevoli, esperti o celebrità per avallare il messaggio, aumenta senz'altro la credibilità della propaganda. Durante la prima guerra mondiale, il presidente Wutru Wilson creò il Comitato per l'informazione pubblica, guidato da George Creel, che utilizzava giornalisti, artisti e celebrità per promuovere la causa della guerra. Grazie, signor Bruneis. Sintetico ed efficace. Davvero magistrale. Il resto è lei l'inventore delle pubbliche relazioni e, dato il contesto di questa intervista, si può permettere di essere assolutamente esplicito e noi per questo la ringraziamo. Perché la propaganda è così importante in tempo di guerra? Ci può spiegare questo punto? Durante i conflitti è essenziale che la popolazione sia unita e motivata. La propaganda aiuta a creare un senso di coesione e di giustizia, facendo percepire la guerra come una lotta necessaria contro un nemico assolutamente malvagio. Inoltre, rafforza il morale delle truppe e della popolazione civile, indispensabile per sostenere lo sforzo bellico. Può fare qualche esempio di dispositivi utilizzati nella propaganda di guerra? Certamente. Uno dei principali dispositivi è la creazione di stereotipi negativi sul nemico. Ad esempio, durante la Prima Guerra Mondiale, i tedeschi venivano spesso descritti come barbari spietati. Questo serviva a giustificare la guerra e a motivare i soldati a combattere contro i cosiddetti unni. Un altro dispositivo è l'uso di immagini e simboli potenti. Poster, film e canzoni sono strumenti efficaci per veicolare messaggi semplici ma emotivamente forti. Pensiamo ai poster con lo zio Sam, di cui dicevamo prima, oppure alle canzoni di guerra, le tante canzoni di guerra. Lily Marlene, per esempio. E come si riesce a convincere l'opinione pubblica a sostenere la guerra? Beh, si utilizzano diverse tecniche. Una delle più efficaci, come dicevo prima, è la ripetizione costante di messaggi chiave attraverso vari media. Giornali, radio, cinema. Inoltre, si cercano voci autorevoli, che possono avallare questi messaggi. Dicevamo, no? Asperti, celebrità, leader religiosi, eccetera eccetera. Questo significa che la propaganda può manipolare la realtà? Sì, in un certo senso sì. La propaganda selezione presenta informazioni in modo tale da creare una narrazione specifica, quindi altera la percezione che si ha della realtà. Non è sempre necessariamente menzogna, ma piuttosto una presentazione parziale della verità, mirata a ottenere una risposta emotiva o comportamentale ben precisa dal pubblico target. Quali sono i principali rischi della propaganda? Beh, uno dei principali rischi è che può alimentare odio e divisione. Creare un'immagine demonizzata del nemico può portare a violenze e atrocità, a volte gratuite. Inoltre, se la popolazione scopre di essere stata manipolata, può perdere fiducia nei propri leader e nelle istituzioni, quindi la propaganda può anche diventare un boomerang. Chiarissimo, signor Bernays. Ora, vorrei chiederle come vengono generalmente applicati i concetti di propaganda che ci ha illustrato al mondo contemporaneo. Può farci qualche esempio accessibile a tutti? Certamente. Un esempio di propaganda può essere visto durante le campagne elettorali, è un classico. I politici e i loro consulenti, i cosiddetti spin doctors, utilizzano tecniche di propaganda per costruire l'immagine del candidato, per esaltare le sue qualità e per attaccare gli avversari. Questo può includere la selezione di informazioni favorevoli e la diffusione di messaggi ripetuti attraverso vari media, a volte ad nauseam. Prendiamo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti che, per ovvi motivi, sono seguite a livello planetario. Entrambi i principali candidati utilizzano spot televisivi, social media e apparizioni pubbliche per costruire una narrazione positiva di se stessi e negativa, demonizzante, del loro avversario. Ad esempio, un candidato può essere presentato come un patriota, che difende i valori tradizionali, mentre l'altro può essere dipinto come un pericolo per il paese, a causa delle sue idee o, come avviene oggi, delle sue traballanti condizioni di salute. Dietro le quinte, in maniera nemmeno troppo celata, si muovono lobbies, espressione di colossali interessi finanziari, multinazionali tentacolari ramificati in ogni parte del mondo, nonché il cosiddetto complesso militare industriale. L'espressione, lo ricordiamo, fu coniata dal presidente Dwight Eisenhower nel 1961. E come si collegano queste tecniche alla propaganda di guerra? Le tecniche sono simili, perché si tratta sempre di influenzare l'opinione pubblica. In tempo di guerra si usano per creare un nemico comune e unire la popolazione contro di esso. Nelle elezioni si usano per creare un senso di urgenza e di necessità di cambiamento, o per mantenere lo status quo. Entrambe le situazioni richiedono la costruzione di una narrativa forte e convincente. Sì, chiaro, signor Bernays. Ora, per far capire ai nostri ascoltatori come sono stati concretamente applicati i concetti di propaganda che ci ha illustrato, può farci qualche esempio tratto dalla storia contemporanea tra ventesimo e ventunesimo secolo, tralasciando il panorama geopolitico attuale che abbiamo tutti quanti sotto gli occhi. Nel caso dei conflitti in Ucraina e in Palestina la propaganda è così smaccata, plateale, vergognosamente cinica, che riesce difficile non rendersene conto. Certamente, la propaganda di guerra contemporanea non è molto diversa da quella del passato, ma utilizza mezzi ancor più sofisticati e pervasivi per raggiungere il pubblico. Vediamo insieme alcuni esempi concreti. Dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, la propaganda è stata usata per giustificare l'invasione dell'Afghanistan, come parte della cosiddetta guerra al terrore. La figura di Osama Bin Laden e il gruppo Al Qaeda sono stati demonizzati e il regime dei talebani è stato presentato come un covo di terroristi. La narrazione dominante era che l'intervento militare fosse necessario per proteggere la sicurezza nazionale e liberare il popolo afgano dall'oppressione da parte del governo fondamentalista e le donne dal velo. Il 30 agosto 2021, qualche mese prima dello scoppio dell'attuale conflitto in Ucraina, gli ultimi soldati statunitensi abbandonavano in fretta e in furia Kabul, dopo aver trattato con quegli stessi talebani che la propaganda vent'anni prima aveva dipinto come irriducibili nemici dell'Occidente collettivo. Una scena, per alcuni versi, simile a quella del 30 aprile 1975 quando gli ultimi cittadini statunitensi furono evacuati dalla loro ambasciata via helicottero. Ricordiamo, a passà, che il pretesto per l'intervento degli Stati Uniti in Vietnam, centinaia di migliaia di morti prima, era stato montato a beneficio dell'opinione pubblica per il tramite del cosiddetto incidente del Golfo del Tonchino, evento che, a suo tempo, ha sollevato questioni etiche e legali riguardo all'uso della propaganda e delle informazioni distorte per influenzare l'opinione pubblica e il processo decisionale. La guerra in Iraq del 2003 rappresenta un altro esempio lampante. La propaganda è stata usata per giustificare l'invasione presentando il regime di Saddam Hussein come una minaccia imminente, per di più collegata al fondamentalismo islamico. I leader politici e i medi anglosassoni hanno insistito sull'esistenza di armi di distruzione di massa in Iraq. Questo messaggio è stato ripetuto costantemente fino a convincere l'opinione pubblica della sua veridicità, nonostante le prove fossero scarse o inesistenti. Sono state usate immagini potenti, come quelle delle statue di Saddam Hussein abbattute. Le informazioni selezionate presentavano solo indizi che parevano giustificare l'invasione, ignorando le macroscopiche evidenze contrarie, per esempio la totale incompatibilità tra il regime batista nazionalista e laico di Saddam Hussein e l'estremismo islamico. E, infine, sono stati coinvolti esperti e politici di alto profilo per sostenere la necessità dell'intervento. Abbiamo tutti ben presente il discorso pronunciato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il 5 febbraio 2003, dal segretario di Stato degli Stati Uniti, Colin Powell, durante il quale, agitando una fialetta contenente della polvere bianca, presumibilmente antrace, e gli accusò il regime iracheno di preparare una strage di massa. Si trattava, come ammise lo stesso Colin Powell, di una colossale, oggi diremmo bufala o fake news. Saddam Hussein non possedeva tali armi. La strage poi ci fu, grazie all'intervento democratico e umanitario della coalizione capeggiata dagli Stati Uniti, che, secondo un rapporto stilato nel 2006 dal The Lancet Survive, ha provocato oltre 600.000 vittime, la maggior parte civili, donne e bambini. La propaganda ha giocato un ruolo cruciale anche in Libia. Nel 2011 la Nato e i paesi occidentali hanno dipinto Muammar Gheddafi come un dittatore brutale che stava per compiere un massacro contro il suo stesso popolo. Le immagini e i racconti di violenze sono stati amplificati per creare un senso di urgenza e giustificare l'intervento militare. Questo ha mobilitato il sostegno internazionale per l'azione militare. L'odierna situazione della Libia è sotto gli occhi di tutti. Guerra civile, strisciante, anarchia, decine di migliaia di profughi interni o provenienti da altri paesi africani. Anche in quel caso, potremmo dire con una battuta, che si stava meglio quando si stava peggio. Infine, potremmo fare riferimento alla situazione in Siria, difficile da definire con poche parole, data la sua estrema complessità. Nel caso della Siria, la propaganda è stata usata per influenzare l'opinione pubblica, sia a favore che contro l'intervento. Da un lato il regime di Bashar al-Assad è stato descritto come responsabile di atrocità contro i civili, usando armi, chimie e altre forme di violenza. Dall'altro lato, gruppi ribelli sono stati presentati come combattenti per la libertà, nonostante la presenza tra loro di estremisti. La propaganda ha cercato di semplificare una situazione molto complessa per giustificare l'intervento militare e ottenere supporto internazionale a difesa degli interessi delle potenze occidentali. Stati Uniti in testa. L'intervento della Russia, il 30 settembre 2015, su richiesta del governo siriano di Bashar al-Assad, ha segnato un punto di svolta significativo dello scacchiere medio orientale. La Russia ha giustificato il suo intervento con la necessità di combattere il terrorismo, in particolare contro gruppi come lo Stato Islamico, l'Isis, e Jabba al-Nusra, un affiliato di Al-Qaeda, indirettamente e filantropicamente armati dagli Stati Uniti e dai loro alleati, e finanziati da alcuni sponsor privati appartenenti ai paesi del Golfo, come Arabia Saudita, Qatar e Kuwait. Grazie, signor Bernays, di questo ampio excursus. Quali sono i rischi della propaganda nei contesti della guerra moderna? I rischi sono enormi, inutile nasconderlo. La propaganda può portare a decisioni politiche basate su informazioni distorte o false, causando conflitti prolungati e sofferenze inutili, massacri inenarrabili. Inoltre, una volta che la propaganda viene smascherata, può portare a un grave calo di fiducia nelle istituzioni governative e nei media, come sta avvenendo oggi. Ad esempio, la mancanza di armi di distruzione di massa in Iraq ha minato la credibilità dei governi che avevano promosso l'invasione, a cominciare da quello britannico. Le campagne militari degli Stati Uniti e della Nato, nei paesi di cui dicevamo prima, conclusesi tutte quante invariabilmente con enormi devastazioni e massacri di civili, ondate di milioni di profughi strappati alle loro case e alle loro terre, politiche predatorie di sfruttamento e di rapina a vantaggio di soggetti privati e lobbies transnazionali, senza raggiungere gli obiettivi tanto sbandierati di stabilità, pace, democrazia d'esportazione, etc., hanno contribuito peraltro a svilire i principi fondanti delle Nazioni Unite e a incrinare le relazioni diplomatiche internazionali, creando un clima di guerra permanente, nonché non sono riusciti a compromettere scambi commerciali potenzialmente ricchi e profughi. Per concludere, signor Bernays, mi permetta di farle una domanda un po' impertinente, ma direi cruciale. È probabile che molti dei nostri ascoltatori se la siano posta per proprio conto. Signor Bernays, lei da che parte sta? Dalla parte di chi della propaganda si serve per fini, nel migliore dei casi, discutibili, ma spesso disumanamente orientati al denaro e al potere, oppure di coloro, la stragrande maggioranza, che sono costretti a subirla più o meno passivamente? È una domanda importante. Come sa, ho dedicato la mia carriera allo studio e all'applicazione delle tecniche di propaganda, o, come preferisco chiamarle io, relazioni pubbliche. Ho sempre creduto che la propaganda possa essere usata per scopi benefici, come promuovere la salute pubblica o educare il pubblico su questioni importanti. Tuttavia, sono consapevole che può essere anche usata in modo manipolatorio e ingannevole. Di esempi mi sembra di averne fatti tanti. La mia posizione è quella di un osservatore studioso dei meccanismi della comunicazione, con l'obiettivo di renderli trasparenti e comprensibili a tutti. Risposta molto diplomatica, signor Bernays. Allora, da esperto ci dica, come ci si può difendere dalle distorsioni e dalle menzogne, spesso criminali e terroristiche, messe in giro dai principali attori della propaganda e dai loro volenterosi manutengoli, a cominciare dai giornalisti. Il primo passo è essere consapevoli che la propaganda esiste e che viene utilizzata per influenzarci. È essenziale promuovere il pensiero critico e una cultura della verifica delle fonti. Le persone devono essere incoraggiate a cercare informazioni da fonti diverse e a confrontarle, soprattutto nell'area della cosiddetta controinformazione, fuori dal mainstream. Anche l'educazione ai media è fondamentale per comprendere come funzionano i meccanismi della propaganda e per riconoscere quando vengono effettivamente utilizzati. Per sviluppare queste capacità bisognerebbe investire, vada sì, sul settore dell'istruzione, a cominciare dalle scuole primarie. Per questo, so di fare un'affermazione controcorrente rispetto al mondo da cui provengo, mi tireranno senz'altro le orecchie, ma, insomma, è necessario che la scuola rimanga pubblica. Nessun interesse privatistico dovrebbe metter piede nelle scuole di ogni ordine e grado, università comprese. Ci sarebbe bisogno, infine, ma è quasi inutile farlo notare, di una stampa realmente indipendente, libera e plurale, un quarto potere, come si diceva una volta, in grado di affiancare e controllare i tre classici poteri degli stati liberali moderni. Una pia illusione, dati i tempi che corrono? Vorrei sottolineare, in aggiunta, che la propaganda, come qualsiasi strumento, non è di per sé né buona né cattiva. Dipende da come viene utilizzata e per quali scopi. È importante che ci sia trasparenza e che si rispettino i diritti delle persone a essere informata in modo veritiero e completo. Democrazia e uso della propaganda. Sono compatibili? Se sì, fino a che punto? La propaganda è uno strumento di comunicazione e, come tale, non è intrinsecamente incompatibile con la democrazia. Tuttavia, il modo in cui viene utilizzata può essere problematico. In una democrazia è fondamentale che la propaganda sia trasparente e che il pubblico abbia accesso a informazioni complete e accurate. Quando la propaganda viene usata per manipolare e ingannare, mina i principi democratici di trasparenza e responsabilità. La chiave è trovare un equilibrio in cui la propaganda possa informare ed educare senza distorcere la realtà o violare la fiducia del pubblico. Signor Bernays, grazie mille per queste riflessioni. La ringrazio soprattutto per la sua franchezza. È stato illuminante discutere con lei del ruolo della propaganda nella politica e nella società. Grazie a lei è stato un piacere condividere e spero che possano aiutare gli ascoltatori a navigare meglio nel complesso mondo della comunicazione e della propaganda. Cari ascoltatori, vi ringraziamo per averci seguito. Ci auguriamo che questa intervista vi abbia offerto spunti interessanti di riflessione. Alla prossima puntata e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.